Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, dopo millenni, che dire, siamo giunti all'uscita degli attaccanti del team of the year Come vedete Ronaldo Messi e Ibra, Ibra con l'H in basso a destra, sono disponibili, sono disponibili da un quarto d'ora E su Twitter c'è già gente che ha trovato Ibra Imovici, non ho parole, non capisco, non ho veramente parole, vabbè Comunque in più ho visto che c'è l'Happy Hour e in più ho visto che c'è Maldini con più probabilità di uscita Allora andiamo subito a vedere i pacchetti che ci sono qua dell'Happy Hour, adesso vediamo se divide la metà il video, non lo so, vediamo durante il video Comunque, andiamo a vedere il pacchetto oro raro, 2 Andiamo subito ad aprire, via, veloci, subito, pacchetto oro raro 500 FIFA Points, non abbastanza, lasciamo girare la palla Speriamo di trovare anche noi un team of the year quest'anno Subito un giocatore in forma, aprimo il pacchetto Fa un po' schifo, però va bene, va bene dai, va bene, ci accontentiamo Ci accontentiamo Assumatiamo i giocatori Teniamo tutto il resto Bene, un inizio direi è abbastanza buono Con subito un giocatore in forma Secondo pacchetto speciale Ultimo pacchetto speciale è rimasto, lasciamo girare la palla Nooo Fabregas, bastardo E soldato con falco Perché nei pacchetti escono già i giocatori con Quegli stili intesa Vabbè Ok La prima volta che mi capita, però va bene Allora, teniamo tutto E scartiamo questo schifo Bene, diciamo che i due pacchetti sono andati I due pacchetti speciali Andiamo in quelli normali Ora, ora, ora Ah, ma ci sono ancora altri due O comunque, ditemi Ditemi voi Cosa avete trovato Che giocatore avete trovato Visto sul forum Di Foot Italia Che gente Due ragazzi hanno trovato uno Sergio Ramos Totti E l'altro Non mi ricordo Sinceramente Comunque dai Ditemi anche voi Cosa avete trovato Fatemelo sapere qua nei commenti Rilincate anche l'immagine Veramente Vedo di quei giocatori Di quei Di quei giocatori di FIFA Che Non lo so Uno ha trovato Aghi Aghi La leggenda E Sergio Ramos Timo Dejan Allo stesso pacchetto Assurdo Non capisco Come caspita sia possibile Io trovo troppa E ne credo E Sinchevic 53 velocità Terzino No Difensore Ancora peggio Che schifo Andiamo avanti Andiamo avanti Veloci Complimenti FIFA Points Stanno già finendo Con questi pacchetti speciali Comunque Tre pacchetti Quattro pacchetti Unif Che varrà 10.000 crediti Quindi Insomma Niente di che Soltiamo Nenni Mamma mia Questi pacchetti Fanno schifo Non capisco perché Non hanno senso Questi da Cos'è 15.000 crediti Ne apriamo un altro Ma Poi basta Penso Perché non Non si trova mai niente Ne ho aperti un po' Anche dalla web app Ma Non si trova niente Costa il doppio E Alla fine trovi solo Un raro in più Vabbè Infatti ho trovato Alessandrini Orribile Vederne i doppioni Se non c'è niente No Bene Bene Sarà Sarà linea totalmente Intasata Per questi team of the year Ops piccolo incidente Di percorso Dai dai Che voglio far vedere Un team of the year Ai miei iscritti Direi ibra Non mi accontento di Ronaldo Dai Mi accontento di Ronaldo Dai dai Carica 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 Mento Cosa abbiamo qua Predatore E basta Che schifo Via 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 Niente Continuando da quelli da 150 Dai direi che Quelli sono i meglio E anche Maldini Non sarebbe male Insomma Non sarebbe male Comunque ditemi anche Come Se avete Le console di next gen Come vi trovate Perché io Con la Con la One Mi sto trovando Veramente bene Mi piace C'è niente da fare Mi piace Poi è È veloce L'ho attaccata anche alla tv Bello switchare dalla tv A Ai giochi Alla musica Veramente figo Veramente una figata Riconosce bene I suoi Il suo nome Quando la chiami per nome Dai basta Stronzate Andiamo a Falcao Che l'anno scorso La team Fate io Ci ho fatto anche Una recensione Se non sbaglio Oddio che schifo Questi pacchetti Porca miseria Trovata anche Un if Schifoso Porca Troia Dai Dai Messi Cazzo Ma faffanculo Radu Cazzo me ne faccio Di Radu Che cazzo Vedi aprire 5 pacchetti Di questi E poi Aprirne altri Da 7500 Qui crediti Magari Giusto per Giusto per Forte è questo Ma l'unico forte Qua è Marilungo Che schifo Qua non mi interessa Doppioni Merda Bene 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 Direi che Pac opening Che sta andando Ci si può lamentare Sta andando malissimo Come Come giusto che sia Tutti gli if che ho trovato Non superano mai I 50.000 crediti E' più costoso che ho trovato E' stato benati a Sif Ancora di Akitee Basta Basta di Akitee Ero ti coglione Andiamo 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 Niente Niente Zero 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 titoli E dai E dai E dai Fatemi trovare qualcuno Dai Sto spendendo soldi Su Boom Niente Anche il Boateng Quello scarso ho trovato Fa un culo Azzo di merda Viene la nausea Proprio Una nausea Lo trovano Sti giocatori 3-6-9 Ultimi tre pacchetti Questi speciali Inutili Però Dai 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 La va La va Lasciato ingiustamente Fuori dal team of the year Col Porca puttana E Whiteback Che in più i giocatori normali adesso non valgono Una sega Quindi mi tocca tenermeli fino alle prossime due settimane Minimo Questa sera vado Stanotte farò Ripulisti tutti i robben così del mercato Poi li rivenderò E ci guadagnerò 30-40 mila crediti Stile giocatore Niente 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 6, 7, 8 8 giocatori di merda Né neanche uno raro Consoliamoci con 4.000 crediti Che schifo Madonna è durato niente il video, 9 minuti Cosa ho forse durato un po' di più Allora Andiamo con un po' di crediti va Giusto per buttarle via Certo non ho già immaginare Quello che costerà di meno in questo team of the year sarà Messi Che costerà 2, 3, 3 milioni Non posso immaginare Ronaldo e Ibra quanto costeranno Mamma mia Ronaldo costerà Ho visto le statistiche di Ronaldo Impressionante Ibra dovrebbe avere No Non mi ricordo se Ibra o Messi hanno 99 tiro Mamma mia Spettacolo Forse prima o poi riuscirò Riuscirò a provarne una Magari Se non butto via tutti i crediti I pacchetti E voi fino adesso quanti crediti avete usato per i pacchetti Magari senza ritrovare nulla Giustamente Gerard Ma porca puttana Non è possibile Non è possibile Doi Uno su Lo trovano tutti Cazzo Su Twitter Pieno di foto Di pacchetti con super giocatori Fatemelo trovare uno Anche a me Eh Bene Raffaele Niang Giusto? No Quello che volevo Niang Ah signor Vediamo 38.000 Andiamo con questi da 15.000 Ne prendiamo un altro Altro di due E poi siamo Concludiamo qui Perché Non voglio sprecare altri crediti 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 Dai 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 Ultimo Ultimo pacchetto Ultimo pacchetto Oh Fa' il cao Fa' il cao Non guardo Non guardiamo 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 Posso guardare? Boh Riguardo Samu il berbato vernanes che schifo che schifo dai l'ultimo, eh cazzo è una droga ultimo ultimo, arriviamo a due milioni giusti ultimo pack e poi ci salutiamo oh messi 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 oh beh dai, non di niente ma tappato bia biani poca troia beh, insomma non male, non male questo è anche buono non male dai c o c c c guardiano bene, io direi che con questo abbiamo concluso abbiamo concluso anzi anzi, anzi, anzi voglio fare una cosa andare a vedere sono curioso sono molto curioso vediamo se è stato trovato qualche ronaldo se siano ronaldo dai 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 non vedo blu non vedo blu non ci credo è già stato trovato assurdo 10 milioni ma se tu sei un figlio di puttana chiunque tu sia sei un figlio di puttana 98 98 97 a 54 di difesa è mostruoso anche in difesa oh, quanti quanti ce ne sono? 6 milioni già la sta 6 milioni non ci posso credere ma quanti ce ne sono? ma quanti ne han trovati assurdo ma quanti cazzo ne han trovati? altro andiamo a vedere Messi troppo curioso troppo curioso troppo curioso vediamo Messi 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 buu cadi 99 dribbling Messi a 77 colpi di testa e 1,69 ma come fa aver 77 colpi di testa? sto nano madonna quanti ne han trovati di già cazzo 20 minuti che è uscito il team of the week il team of the year ultimo ma non ultimo Zlatan Zlatan masone non carica neanche dalla quantità di team of the year che ci saranno no neanche uno guarda lì qua 98 tiro mamma mia che bestia se questa è l'abilità porca miseria 3 3 ne han già trovati 3 quei 3 sculati no 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 cioè non ci credo non ci credo va bene mi raccomando sbustate comprate giocatori aspettate rivendeteli fra una settimana o due e niente ci vediamo fate buon weekend e spero per voi che sbustiate un un'ibra bella ciao ciao